Il pubblico è un pubblico molto attento, infatti i primi 5 minuti ti osserva attentamente, non si lascia andare perché vuol capire cosa fai e cosa non fai, se sei sulla frequenza giusta, se piace o non piace, poi dopo si lasciano andare e come vedi si divertono, però all'inizio tosti.